Il popolo frintano, ora dobbiamo affidarci a questi bambini. Il dono di Lanciano, che viene tutti gli anni, con il suo carrello, a sfilare prima e con la nostra vita. Ecco una caratteristica dell'estitore del giorno di Sant'Antonio. Buongiorno a tutti! Bravo, bravo, con le mani, con le mani. Mi riguarda la mia madre, ventina della pace. E mi dici i nostri cuori, siamo figli tuoi. Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Grazie a tutti. 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 a tutti.